... Fardino anche la quarta ed ultima sede di questo 1500 metri, di questo terzo meeting Silver Lombardia con Amattia Adamoli dell'Unione Sportiva Terriese, Francesco Bassani Gusti Supria Varese Cuomo, Francesco Raineri dell'Unione Sportiva Terriese, Tommaso Losma Vallebremana, Martino Galvani, Nisnova Giustano, Matteo Durrini, anche lui Gusti Supria Stefano Benzoni, poi di Sportiva Società Amnetica Alcavalseriana, Omar Cattario Alpinistico Vertovese così come Nicola Nembrini e va a chiudere questa quarta serie Nicola Morosini della buona sede Rugno! Guardiamo fortesemente anche, vediamo ovviamente che si completi in questo 1500 metri, poi procederemo anche alla premiazione in questa gara, quindi non andate via, intanto ecco il passaggio davanti Nicola Nembrini dell'altimistico Vertovese, risultati della terza serie 2500 metri uomini, Roberto Nicolai, Atletica Spezia, Duforto 359,36, Giuseppe Cattowi 359,45, Riccardo Saletta 400,05, Mattia Garau 400,14, Riccardo Patrono 400,64, Marco Salvadori 400,20, Matteo Pintus 400,218, Stefano Pedrana 400,25, Giorgio Braccia 40,50, Giorgio Braccia 403,52, Paolo Putti 403,83, Emanuele Tagliaferri 404,93 Ed è il cambio proprio nella testa della gara, la prende la maglia, nella Valle Brembana, 3.12, il tempo di gara attualmente, ancora 4 atleti, il tetto è leggermente staccato, il quarto, poi abbiamo l'alpinistico Vertovese, nel quinta, Ancora tutto da decidere per questo ultimo arrivo di questo 1500 metri uomini Vai, vai! Ed ecco, l'inizio del reti, l'inio finale Va via, prova a scappare via, torna sotto la Valle Brembana, ma non ha da fare, la vittoria, se la vado a giudicare con il 96, 4,01, 97 Per concludere almeno questo 1500 metri Via via, vediamo arrivare anche Francesco Reineri, Tomato Lodma E anche per la Derviese, Mattia D'Amanuele